cinque domande allora molto semplice saranno domande ovviamente abbastanza aperte vediamo poi come giostrarci con i tempi e tranquillamente riuscire a coprire bene o male tutti gli argomenti di oggi partiamo da una roba molto semplice proprio per rompere il ghiaccio tranquillissima adesso vedrai qual è stato il tuo primo approccio con il cinema quindi per vedere un po perché io ovviamente una parte la conosco già perché ci sentiamo ovviamente spesso quasi giornalmente perché per quarta parete però sapere se iniziata più da piccolo con l'infanzia se è venuta magari dopo in età un po più adulta dimmi tu innanzitutto con quarta parete sì ormai potevi presentarmi direttamente come lo steve jobs del cinema online non mi sarei offeso in talcato ma accetto anche fondatore va bene va bene sarà per la prossima ospitata no l'approccio con il cinema io devo dire che è stato molto molto prematuro chiaramente ho capito di amare quest'arte sin da piccolo con i film della disney cioè banalmente so che per la nostra generazione le cassette ovvero i bhs erano quelle con cui siamo cresciuti io personalmente credo di aver consumato cassette e videoregistratori con il re leone per esempio ma anche l'attività proprio giornaliera del guardare prodotti audiovisivi non so io ricordo quando ero piccolo era sacro quasi non volevo staccarmi dalla televisione quando sulla raio su le reti mediaset insomma mandavano i cartoni animali prima che si andasse a scuola quindi cioè nel senso bello perché inizi la giornata col sorriso con i tuoi latte e cereali mentre guardi veramente ormai la mattina non so come i giovani d'oggi non voglio risultare boomer ma si approcciano siamo giovani io mi ritengo ancora un giovane ci riteniamo ancora giovani però diciamo che c'è tutta una nuova generazione che di cui non è che sappiamo bene o male tutto quanto adesso non saprei anche perché non è che magari non so per te ma per me non è più così usuale no vedere qualcosa anche solo al mattino in televisione più che altro computer e tutt'altro magari televisione più la sera no sì sì ormai è streaming cioè nel senso sono cambiati i tempi quindi ne prendiamo atto non vogliamo fare i soliti discorsi burberi e meglio peggio però semplicemente siccome è la mia personalissima esperienza dico che iniziavo bene le giornate ecco perché andare a scuola e prima però di legarsi in un istituto guardare i cartoni era bellissimo così come era bellissimo aspettare il sabato sera la doppietta su italia 1 no credo che in tanti della nostra generazione l'hanno fatto attendevano con entusiasmo il sabato sera per guardare un paio di film che tra l'altro insomma veramente eh potevano variare a seconda del del periodo dai classici una poltrona per due il grince verso natale insomma veramente era di tutte e di più quindi diciamo che il mio primo approccio da spettatore è stato questo poi verso i 18 anni mi sono interessato mi sono approcciato al cinema anche in quanto materia accademica e come mix diciamo tra tutte le le altre arti ehm ad esempio il primo film per per fare un esempio dove mi sono approcciato in una maniera un po' più analitica è stato 2001 disse nello spazio dove essi anche saggi relativi a dal film di Kubrick a Nietzsche quindi la sua filosofia del del superuomo ma in generale è insomma è sempre stato un amore a prima vista ecco mettiamola così in tutti i sensi di cinema qualcosa che è nato quando eri più piccolo e poi ovviamente si è sviluppata una parte un po' più critica quando hai anche deciso di portare la tua passione a essere probabilmente anche qualcosa che c'entra cioè senza probabilmente qualcosa che c'entra anche con il lavoro che fai adesso no sì sì la comunicazione a tutto d'ondo ma in generale è chiaro che il sogno è riuscire a vivere di cinema tutti i giorni e questo chiaramente non è non è nascondersi ma è è un amore è una dichiarazione d'amore quindi al giorno d'oggi riuscire a vivere facendo ogni giorno quello che ami è è un augurio che posso fare a chiunque è quella cosa straordinaria nella vita secondo me quindi sì sì lo condivido lo condivido ma oltre a 2001 ad esempio ci sono qualche altro titolo uno di quelli che nella fase un po' più avanzata quella che hai messo diciamo relativa allo studio no hai trovato così che ti ha colpito maggiormente ma guarda e allora all'epoca è chiaro che le mie ricerche da diciamo una persona che si sta adesso approcciando in quel momento si stava approcciando almeno a al cinema anche d'autore no se vogliamo perché prima dei 18 anni comunque vedere un film di Wong Kar Wai cioè capisci che magari si può essere affascinato dalle immagini suggestive dal montaggio da una scelta narrativa piuttosto che da un'altra però metterle in sequenza diciamo secondo una logica a una certa razionalità autorialità emotività anche dopo ci arrivi cioè nel senso è chiaro che devi maturare tu come persona come professionista come insomma operatore in un certo senso e quindi sì io direi anche con tutti i registi di cui si parlava su un social che prima mi sembra si usasse molto si usava molto di più che era facebook cioè sui gruppi di facebook si parlava in quelli specialmente del settore cinema no che c'erano vari gruppi sì lì giravano Kubrick per l'appunto Wong Kar Wai che ho citato Fellini sono stati quelli i più tra virgolette rinomati a cui mi sono poi approcciato cioè ricordo che la filmografia di Kubrick ad esempio è quella che per prima ho cercato di completare per portare avanti uno studio cioè per capire come fosse poi sviscerare a tutto un autore in tutta la sua sicuramente è iniziato da un elemento portante comunque della settima arte quindi ovviamente un ottimo inizio diciamo poi invece sì certo certo anche perché poi quello che volevo dire è che avviene durante poi cioè la nostra passione è legata anche ad un percorso quindi magari io inizio appunto dalla Disney dalla Pixar quelli che ovviamente sul mercato occidentale arrivavano più facilmente no erano più reperibili e quindi da bambino ti affezionavi a quelle cose a quegli a quei prodotti lì soprattutto animazione ovviamente per poi passare magari quando appunto si cresce a qualcosa di più interessante quindi magari poi variando sui generi variando con gli autori insomma quindi poi ognuno sviluppa il il proprio percorso e la propria crescita con la propria passione quindi ci ha accompagnato da quanto ho capito anche da te anche per te da fin dall'infanzia quindi è sicuramente qualcosa che condividiamo si parte da quello poi si arriva a quello che tu vivi cioè il tuo vissuto chiaramente influenza anche i tuoi gusti cioè inevitabilmente magari ci sono cose che tra virgolette in chiave accademica studi analizzi ma non ti appassiona per una questione di vissuto invece poi magari sei costretto tra virgolette nel fatto per il percorso di studi che hai scelto sì tra virgolette sì può capitare è chiaro che non possono piacere tutti gli autori del mondo per quanto uno ne possa riconoscere la grandezza poi il tuo vissuto ti diciamo crea un percorso che è del tutto personale è una percezione del tutto soggettiva che l'arte alla fine è soggettiva è chiaro che in fase accademica uno può tra virgolette studiarla vivisezionarla ma poi sta al critico tra virgolette o chi che sia l'appassionato riuscire a instaurare un legame che è del tutto personale e va benissimo così e quello è il bello e intraprendere il proprio percorso parola che ho ripetuto più volte ma è quello che alla fine seguiamo anche in questo in questo nostro che adesso forse è ancora considerato un hobby una passione così ma deve diventare poi un lavoro vero e proprio quello che vogliamo raggiungere insomma bene o male tu magari con l'aspetto più critico no la critica cinematografica io ad esempio quella invece proprio dietro la macchina da presa quindi vediamo se ci riusciremo ma già adesso sicuramente poi su quarta diciamo che ci sono anche risultati molto interessanti adesso è molto più molto concreti ultimamente un giorno sarebbe bello anche fare cose nostre appunto ne parlavamo già anche anche fin troppo agli inizi forse di queste cose qua quindi sarebbe sarebbe davvero bello però collegandomi a questo direi di passare anche subito alla seconda domanda che si lega ovviamente adesso rimetto un attimo il bando della prima che si lega ovviamente a quello che noi viviamo praticamente settimanalmente quasi non so se in maniera giornaliera però al cinema quindi in generale a come funziona per noi qua in Italia visto che nella scorsa puntata abbiamo parlato più che altro di come funzionava al di fuori no in una realtà come quella di Dubai in questo caso volevo affrontare con te invece che cosa adesso mettiamo la domanda quali sono i pro e i contro della distribuzione italiana ovviamente di pro vediamo cosa affrontare i contro sicuramente ci accenderanno un po' di più però non so io un pochino so come la pensi però magari riusciamo a sviscerare qualcosa in più sì io partirei subito col dire che la premessa è che chiaramente in Italia comunque grosso modo si dà un minimo spazio cioè se il confronto è con altri paesi è chiaro che almeno nelle grandi catene o nelle grandi città ecco più che nelle grandi catene sussiste una sopravvivenza di una combo che per forza di cose ci porta a riuscire più o meno a recuperare tutto ciò che passa che è quella del cinema di sé con le grandi catene quali UCI, The Space eccetera 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 è chiaro che nel contesto in cui uno vive fuori la grande metropoli italiana cioè parlo di una realtà più provinciale la distribuzione italiana quasi non sussiste cioè purtroppo bisogna prendere atto del fatto che se vivi in una grande città tanto quanto io non mi lamenterei nemmeno cioè secondo me la distribuzione italiana comunque anche se a volte con ritardi o addirittura a volte anche con degli anticipi rispetto al mercato americano comunque è una buona cosa credo che il problema vero e proprio sia la realtà provinciale cioè chi è costretto a prendere la macchina e farsi 40 minuti, 50 minuti, un'ora o mettersi nei mezzi di trasporto che insomma non è un mistero in Italia non è che siano così tanto efficienti, ecco non siamo Londra diciamo che non abbiamo quella parentesi perché se no staremo qua e divagheremo un pochettino perché siamo anche d'accordo su quello che stavi per dire sicuramente ecco non approfondiamo però è chiaro che non c'è un assist ecco da parte delle ferrovie mettiamola così esatto ecco mettiamola così quindi dal momento in cui c'è questa grande difficoltà chi vive fuori da Milano, Torino, Roma, Napoli eccetera 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 fa più fatica e fa più fatica per tantissime ragioni cioè poi il discorso sarebbe ampissimo cioè da un punto di vista culturale al perché insomma i nostri numeri anche rispetto a un paese più vicino come quello di la Francia non siano così avvincenti ma con dei risultati comunque post pandemia almeno nel 2023-2024 non sembrano catastrofici come il primissimo anno post pandemia mettiamola così come davano le premesse le premesse dicevano qualcosa di sicuramente di più grave diciamo che noi abbiamo sfruttato anche il fatto di essere appunto in territorio europeo e quindi anche collegandomi a quello che dicevi tu prima il fatto che ultimamente per alcuni titoli, per alcune case di distribuzione è anche diminuito quel gap che c'era con le uscite statunitense adesso per molti titoli e molti blockbuster, parliamo di quelli a volte capita che da noi escano il giovedì, il mercoledì che rispetto invece a quanto avviene in America dove ovviamente ci sono la maggior parte dei blockbuster quasi il 90% anche di più lì escono il venerdì ovvio che lì è il giorno proprio di uscita e quindi noi li riceviamo anche un pochino prima insomma solo che secondo me poi varia a parte anche le cose come dicevi tu da una realtà cittadina, da una realtà più provinciale a volte cambia anche dal, non so, da Torino-Milano per dire che sono comunque due città che distano due ore di macchina eppure di là viene affrontata la distribuzione in maniera diversa perché comunque Milano e Roma restano un po' in gran parte i due poli del cinema nel nostro paese ed è un peccato in realtà perché in realtà come adesso parliamo delle nostre perché siamo qua in primo piano come Torino e Napoli qua diciamo che si perde un po' è vero, qua c'è una sicuramente io parlo per me adesso qua in Piemonte ci sono tantissimi film, tantissime sale comunque attrezzate più o meno bene e quindi ovviamente anche i titoli magari un po' più sconosciuti quelli di sé riescono comunque ad arrivare però le finestre restano comunque fin troppo piccole e c'è fin troppo poca pubblicità quando si affronta questo tipo di film potremmo fare tantissimi esempi ma adesso non voglio dilungarmi troppo quello che io ti chiedo e mi guarda adesso mi collego anche alla terza perché è un discorso abbastanza unico la terza domanda è quali prospettive può avere però il nostro cinema? secondo te quali potrebbero essere? lo so che magari è abbastanza non è così semplice perché magari a parole è più facile raggiungere una soluzione però io un'idea ce l'ho volevo ascoltare anche la tua e vedere quali magari possono essere quelle prospettive che può avere anche in merito a collegandoci poi magari alla news che tratteremo più avanti possono avere determinati film quando raggiungono un determinato successo vengono magari portati all'estero viene visto appunto il film candidato a determinate premiazioni può aiutare questo? può essere sfruttato meglio secondo te? quindi leghiamo distribuzione e produzione mi sembra di capire allora innanzitutto distribuzione hai centrato il punto cioè la pubblicità che oggigiorno è sempre stato sacrosanta ma oggigiorno dove i canali di comunicazione ne sono tantissimi e svariati veramente si può fare qualunque cosa sfruttando anche un solo social non dico tanti ma un solo social fa la differenza e quindi quello che io mi chiedo è perché non si dà spazio a anche il cinema più d'essere, d'autore oltre che i blockbuster alla fine i blockbuster sono sponsorizzati perché è chiaro che le case di produzione e quelle di distribuzione abbiano possibilità economiche di investimenti maggiori superiori di gran lunga ai film che invece vengono distribuiti nei cinema d'essere cioè non è un segreto voglio dire quindi io credo che nella pianificazione del budget quando si legano distribuzione e produzione vada un attimo presa in considerazione un pochetto di più la pubblicità perché i nostri casi comunque sono più unici che rari di successi parliamo lasciando perdere la qualità cioè non facciamone un discorso di qualità facciamo un discorso lasciamo da parte quell'aspetto perché ovviamente se dovessimo entrare anche in quell'aspetto lì dovremmo parlarne per ore e magari non è così semplice di avere una soluzione non ne parliamo semplicemente film A film B arrivano devono arrivare in sala no? e adesso con tutto il fatto che esistono i teaser trailer del trailer ufficiale il secondo trailer tutte le varie così tutti i social che ci sono banalmente se tu vedi molti blockbuster americani hanno addirittura la propria pagina Instagram cioè non è più legato quasi alla distribuzione quindi al social Warner Disney in questione per fare due esempi hanno addirittura proprio la pagina Instagram è più difficile che in un panorama italiano avvenga questo questo aspetto questo fattore qua che ci sia questo prodotto anche appunto di pubblicità e secondo me questa cosa è una grave mancanza perché come dicevi tu nella produzione se non si ritaglia una fetta del budget per questo per questo elemento per questo settore ci va a perdere non solo il film ma l'industria in generale il problema è che lo stato italiano non tutela la cultura del cinema io direi che non tutela la cultura appunto però se vogliamo settorializzarla proprio al cinema no concentriamoci solo su un aspetto perché ce ne sarebbe da dire il problema è che mi sembra anche piuttosto lampante come questione cioè dal momento in cui c'è un monopolio del mercato e quindi ci sono c'è la Rai punto grosso modo poi con qualche casa di distribuzione e di produzione però quando quando escono i film e al 90% trovi comunque anche se ci sono tante case di distribuzione e produzione trovi Rai Cinema sempre Sky sì negli ultimi anni c'è stato ci sono molti Sky original arrivano anche con le coproduzioni con Sky quindi quello aiuta però due realtà siamo comunque non è che non più di tanto mi sembra francamente troppo poco e poi essendo comunque ecco per farla breve e semplice gli investimenti non hanno rischi cioè nel senso non interessa riguadagnare o comunque addirittura trarre profitto da quello che si investe che è una grave ma è proprio una lacuna la più grave una delle più gravi ma perché tu così facendo togli anche la possibilità di ingegnarsi tra virgolette ai produttori a chi lavora semplicemente a un film non perché ne voglia fare io un discorso di pigrizia che ne consegue però è chiaro che purtroppo cioè l'essere umano in quanto tale deve avere degli incentivi che non siano soltanto economici economici scusami ma anche di stimoli cioè creativi di proporre la propria visione autoreale la propria fantasia cioè mi sembra che purtroppo in una realtà italiana e quindi rispondo alla domanda prospettive io faccio fatica a mostrare ottimismo cioè al momento va bene che ci sono un paio di casi isolati che restano però casi isolati cioè banalmente io capitano andiamo a vedere i dati di io capitano al botteghino in Italia è stato candidato in cinquina di Oscar ai Golden Globe ok però non mi sembra che sia stato un grande successo economico e di pubblico adesso non ho i dati sotto mano però da quanto ricordo non è che abbia fatto chissà quali risultato anche perché tu come cioè per valutare una cosa del genere spesso quando anche in tante altre trasmissioni altri programmi talk show podcast tutto quanto quando si analizza il box office di solito quello americano no o quello globale si riesce a fare un discorso più certosino più dettagliato perché comunque si hanno ovvio non abbiamo tutti i dati completi perché non siamo nella casa di produzione e distribuzione però ci vengono forniti talmente tanti dati tu sai che comunque c'è una regola che devono almeno triplicare il risultato per entrare a far parte di cosiddetti top film no riuscire ad incassare determinate cifre mentre in Italia è tutto un po' più vago è tutto un po' più ok ha fatto un grande numero uguale top però magari quello che si è speso dietro cioè non lo so vorrei cioè possiamo anche ridurla a la mentalità italiana grossomodo è tarlucebino non vado oltre però purtroppo mi sembra fattuale nel senso non importante il risultato che si porta a casa purché si faccia però tu sei più dell'idea scusami se ti interrompo sei più dell'idea che tu hai parlato di mentalità mentalità anche dello spettatore quindi di chi si rivolge cioè a chi si rivolge l'offerta però lì il problema è secondo te solo la mentalità dello spettatore o la grande il discorso oppure di cosa viene offerto perché il dilemma resta forse sempre quello nel senso che a volte si dice eh ma è lo spettatore che deve capire cosa andare a vedere perché deve pensare di più quindi sapere distinguere se è qualcosa di trash cringe i termini che vogliamo oppure qualcosa di top di interessante o più profondo oppure è qualcosa cioè tu questa è l'offerta perché se noi guardiamo anche il listino di film che escono al cinema tra commedie sgangherate film diciamo non proprio di chissà quale profondità emotiva rispetto magari al giallo tutta la parte d'autore c'è uno sbilanciamento che a volte non cosa provoca cioè lo spettatore deve essere talmente informato che magari quelli come noi non perché chissà cioè non è che ci ergiamo su quale chissà su quale gradino però nel senso noi che magari ne parliamo ne scriviamo no e ci informiamo è più facile che sappiamo dirigerci verso un determinato regista verso un determinato autore no invece magari il pubblico si basa sul trailer che vede al cinema il trailer che vede in tv e va a vedere la prima cosa è consumo ma da che mondo è mondo da che mondo è mondo il mercato funziona così cioè nel senso non è non è che il produttore decide in maniera autonoma io offro questo se lui è bene se non no cioè la produzione da che mondo è mondo nel mercato sarebbe che si valuta la domanda e poi tu insomma dai ai consumatori ascolti tra virgolette raccogli i feedback le esigenze e poi rielabori quindi ma questo passaggio avviene secondo te? cioè avviene in maniera è questo che mi chiedo perché io credo che manchi proprio il solidificarsi di un rapporto del genere qui in Italia cioè non vedo questa grande collaborazione io vedo semplicemente un mercato saturo che non ha grosse aspettative se non per 3-4 autori soliti che citiamo e ricitiamo da anni non mi sembra che ci siano grandi autori di spicco che non provengano da altri nomi mettiamola ma alla fine comunque i nomi se tu pensi adesso al cinema al miglior cinema italiano ti vengono in mente Bellocchio Garrone Sorrentino cioè quelli sono i nomi però sono da da quanti anni cioè adesso si sta inserendo la Rohrwaker cioè eh sì esatto è vero però insomma sì siamo sempre a 4-5 comunque è quello il problema sembra una grande vittoria perché poi il resto sono attori che diventano registi quindi già sono nel mercato produttori o chi che sia insomma che sia legato a qualcuno quel qualcuno ha fatto il nome oppure diamo i soldi a x persone perché già conosciamo x persone e quindi ci fidiamo a occhi chiusi non ci interessa una gavetta un po' irrisoria insomma sì è un mercato a circolo chiuso dove lavorano grosso modo le stesse persone e questo si estende a tutto cioè Vedasi Sanremo dove gli scrittori dei testi erano praticamente gli stessi per ogni canzone questo è il mercato italiano in tutte le sue declinazioni quindi pure il cinema viene toccato in questo modo quindi loro alla fine cioè loro intendo per citare di Sorrentino in chiave politica cioè che che interesse hanno effettivamente del consumatore cioè perché si interessano del consumatore ma mi sembra che non sia molto questa la tendenza non credo che ci sia un reale interesse io penso che il consumatore in primis vada in un certo modo educato cioè ma educato che cosa significa però non che ti affino i gusti perché i gusti sono personali ecco non traviato educato nel senso viene portato un certo tipo di offerta in sala e non deve mancare la parte magari che noi consideriamo meno interessante meno profonda meno filosofica perché ci sta anche ovviamente si estende a tutto cioè se noi parliamo strettamente d'Italia si estende a tutto perché ragazzi ma anche dalla nostra generazione volendo non amano leggere non amano informarsi su questioni politiche sociali non amano conoscere ciò che li circonda alla fine è anche una questione di lavorare sulla percezione del singolo che poi è collettività per forza di cose perché le due cose in un certo qual modo poi combaciano e allora se non si va tra virgolette comporre le minuzie tra virgolette io la vedo dura cioè come puoi pretendere che poi senza pubblicità tra l'altro le persone vadano e i film di sé o un io capitano possa incassare cifre importanti cioè i casi sono unici c'è ancora domani un caso unico c'è poco da fare è un caso unico ed è un film anche che sicuramente adesso poi ne parleremo nella news no quello che mi viene in mente mentre tu parlavi era un'altra cosa che ci manca a livello di pubblicità cioè noi abbiamo pochi talk show nei posti dove in tv programmi che riescono a estendere il bacino di utenza del cinema perché i programmi di oggi se si accende alla televisione sono dedicati per lo più a un pubblico adulto anziano mettiamola così cioè tra i legato legato al televisivo cioè non c'è quella non c'è quell'unione di intenti tra le tra i due medium no no cioè la tv italiana è vecchia è vecchia nel nel senso di arcaico non sai giornale no ma basta vedere anche i programmi tipo sai il talk show quello di di Cattera nell'esempio dove però arrivano ospiti che c'è da una parte vengono invitati i vari Brad Pitt no Tarantino questa gente qua quando fai i film no quando ci sono prodotti in uscita cinematografici da noi non c'è uno star system non c'è uno star system non che adesso lo star system sia proprio il il fulcro no dell'industria però cioè ci mancano vabbè noi come diciamo che tu vendi anche con l'attore vedi di Caprio cioè l'attore il regista in un certo modo comunque può vendere Tarantino io ve lo solo dire che non è più preponderante come magari un tempo è quello il discorso manca pure quello cioè quindi aggiungi 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 uguale come ne usciamo io non vedo al momento soluzioni perché non vedo soluzioni mettiamola così in altri ambiti italiani quindi se non c'è soluzione in altri ambiti non ci può essere collegamento alla cultura non ci può essere collegamento al cinema in quanto arte sì perché deve essere comunque un un insieme di intenti e di e di stimoli come dicevamo prima che renda più appetibile tutta l'offerta dal film meno interessante al film più interessante dal film più sconosciuto a quello over candidato ovunque no che va che riesce magari a fare il giro del mondo io non credo sia una questione di visibilità del film cioè non credo che sia ad esempio per me c'è ancora domani è una piacevolissima sorpresa è un unicum ma in quanto unicum secondo me non è vero che riprende l'industria cioè che aiuta a riprendere l'industria cioè non credo che dai là come dire perché di esempi poi ce ne sono vari e il problema è anche perché non è un film che ti è cioè è un film è un unicum perché ovviamente non è parte di un che ne so di un franchise di qualcosa cioè è semplicemente un film con un bel bel dilemma un bel discorso di fondo no che ha saputo a sorpresa coinvolgere molto più pubblico di quello che ci ci si aspettava credo che la stessa cortellesi non si aspettasse questo grandissimo successo ma come lo dicono anche i numeri come lo dicono anche tutti i film tutti gli altri candidati tutti quelli del programma adesso cinematografico italiano che resta appunto un un bagliore ma di una speranza che quasi non esiste neanche non sembra esserci insomma ti dimostra che basterebbe poco perché nel senso basterebbe poco perché i film dei film bisogna anche chiacchierare quindi è bello che le versioni abbiano parlato e ci sia stata una catena tra virgolette internos passiamo passami il termine però non non avviene questo per tutti i film cioè sono casi unici e quindi come faccio io a dire che un caso unico possa salvare l'industria e al momento io non ci vedo queste prospettive rose ecco mettiamola così anzi purtroppo anche da un punto di vista semplicemente produttivo prima di distribuzione ecco è se poi tu pensi che è ancora più unico questo questo elemento dice ancora domani questo appunto questa uscita qua perché oltretutto se noti anche quanto è rimasto in sala sì mesi e mesi quando è capitato ma no ma assurdo cioè io non dico cosa è uscito a ottobre del 2023 cioè io ho visto che adesso forse questa settimana è sparito cioè non dico finalmente però nel senso bisogna dare anche spazio ad altre cose ecco vedi questo è l'esagerare dall'altro punto di vista perché tu mi dici ecco vedi sta facendo grandi numeri ok ma spingiamo anche gli altri film quindi se funziona così perché magari uno dice cavoli ho vistoci ancora domani mi è piaciuto mi è piaciuta l'esperienza di vederlo in sala cavoli c'è un altro film che esce italiano vado a vedere anche quello invece mi sembra che eh no funziona quello bene proponiamolo per 50 mesi di fila così quello diventa il successo e facciamo finta che sia tutto in ripresa tutto quanto in maniera diversa invece è una facciata è una facciata ecco serve a costruire una facciata che è illusoria momentaneamente ma poi si ritorna alla realtà grigia cioè c'è poco da fare e poi oggigiorno a me la cosa che sorprende è che la pubblicità non costa quanto costava in passato cioè non è che sei costretto con un solo canale di comunicazione a pagare eh una pubblicità televisiva puoi fare contenuti in tanti altri modi cioè ci sono tanti social cioè banalmente un film di punta adesso tra virgolette perché non saprei che esempio fare che dovrebbe uscire nei prossimi mesi basta che si apra una pagina tiktok e ha già fatto gran parte del lavoro a livello di marketing no? sì questo potrebbe influenzare anche la produzione del film stesso cioè non dico che debba essere un film tiktoccabile però qualche scena cioè Satburn da questo punto di vista è stata un'operazione da un punto di vista produttivo lasciamo perdere la qualità parliamo solo di produzione è stato geniale cioè la produzione è stata geniale perché è stato tiktoccabile mettiamo sempre questo termine virgolettato e l'hanno venduto bene ormai è di uso comune comunque l'hanno venduto bene da noi non è arrivato nemmeno in sala no direttamente su Prime Video è vero anche questo sarebbe tutto un altro discorso perché anche quando ci sono questi film che cioè da una parte diciamo e cavoli abbiamo ridotto il gap su tantissime uscite soprattutto di blockbuster poi arriva un May Dicembre anche qua lasciamo da parte la qualità del film mi è uscito a novembre cos'è negli Stati Uniti sì mi sembra e arriva però li ho tendi su niente eh appunto ma quello problemi comunque di dove è uscito nella distribuzione americana in Italia arriva quanti mesi dopo c'è uscito a a marzo sì no oltretutto dopo anche le remezioni il problema quale sarà stato che per chi qualche cinefilo diciamo per la per seguire al meglio le premiazioni e altri insomma per sentito dire avrà uno scaricato e quindi arriva a marzo e va bene diciamo l'iniziativa di portarlo al cinema e non direttamente su Netflix Italia lo apprezzo grazie alla laghired perché per l'amor di Dio però poi cioè i numeri come sono stati effettivamente non li ho sotto mano ma non credo che siano stati molto elevati anche perché a questo punto se io sono costretto a vederlo quattro mesi dopo a questo punto io faccio un passo indietro nonostante il mio amore per il cinema e poter vedere tutti questi film sul grande schermo piuttosto allora preferisco che la distribuzione sia più o meno uguale anche se solo un mesetto dopo ma che riesce ancora a far parte del chiacchiericcio del discorso perché sinceramente non so adesso quanti altri show altri colleghi abbiano ancora parlato di May December cioè comunque intorno all'uscita noi ad esempio su Quarta Parete abbiamo i vari articoli di approfondimenti però quanto attaccano poi effettivamente nel senso che se poi il pubblico non va a vederli questi film di conseguenza oltre a rendere più difficile la posizione in sala rende anche più difficile tutti gli altri lavori che ci sono sotto la ramificazione di quello che si estende sotto e quindi in realtà come quella di Quarta di redazioni web ne risentono di conseguenza tutto un circolo alla fine lasciamo perdere cioè i siti non li voglio includere nel discorso lasciamo perdere era per ampliare un attimo no 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 ma è fatto bene a citarlo io dico semplicemente seppure non volessi contare il sito perché il sito scrive di qualsiasi cosa riguardi l'ambito cinema e serie tv e quindi ci sta il content creator che chiaramente deve produrre altro quindi fa audio video in qualunque sua declinazione o forma che sia la live il video montato ciò che più piace è chiaro che il content creator va dove non dico dove lo volto al vento però la tendenza la deve seguire no no ma è quello banalmente è così ovviamente più hai numeri grandi e più puoi muoverti dove preferisci tu più magari hai numeri piccoli se in realtà più piccola più devi cercare di cavalcare quello che funziona di più ma è logico non è piegarsi al sistema secondo me è un discorso che devi fare più forza è una logica di mercato tra virgolette poi ognuno fa ciò che vuole ma però si toglie anche queste parti e altre pubblicità che non riesce a fare al prodotto e quindi alla fine torniamo sempre lì torniamo sempre lì e quindi vedi è un cane che si morde la goda e se la morderà secondo me sempre al momento ti dico sempre poi se tra vent'anni cambia la situazione è quello che mi auguro ben venga al momento non ci sono dati a supporto di un'ambizione un futuro prospero ecco mettiamola così forse una cosa che possiamo sperare è che ci siano magari più casi come c'è ancora domani che però riescano ad far aprire gli occhi alle persone giuste alle produzioni giuste e dire ok funziona una cosa così abbiamo altri film perché comunque anche come vedremo più avanti con la news di oggi non c'è solo quel film lì ce ne sono tanti nel nostro panorama bisogna capire come equilibrare la spinta di tutti questi prodotti prendere il mercato più più omogeneo rendere l'offerta più fruibile ma anche le strutture c'è poco da fare cioè le strutture pure conta eh ovviamente anche quello conta io ad esempio per fare un mio esempio qua diciamo che non sono tantissimissime le strutture quelle dove che possono vantare più che altro in molte sale c'è magari l'audio buono in molte sale c'è la seduta buona quindi una comodità diversa però difficilmente trovi l'equilibrio tra tutto quindi ogni volta devi scegli ma perdi qualcosa guadagni qualcosa e perdi qualcos'altro e il consumatore cioè per noi una cosa ma cioè se il consumatore deve scegliere se pagare 10 euro per stare scomodo oppure starsene a casa e guardare Netflix è chiaro cioè non è che bisogna prendersela con Netflix quello è il discorso non è colpa di chi offre un servizio magari le lacune sono altre ma sono tantissime non è una è un'altra di quelle che possiamo analizzare è la carenza delle strutture e della distribuzione cioè la collocazione delle strutture perché in provincia chiaramente magari manca il space di turno luci eccetera e qui cinema monosala o comunque con due tre salette piccole non hanno un'attrattiva tale da riempire le sale e poi sono costretti a mettere anche loro solo il blockbuster di turno però se ho l'offerta sia lì sia nelle altre sale di multisala dove magari è tutto più attrezzato e tutto così alla fine anche lì è sempre un cane che si morde la coda e sei costretto a a far quello che si può e un'altra cosa che io volevo aggiungere così mi collego alla prossima domanda e poi come entrano in gioco la parte noi vediamo c'è la preproduzione la produzione esce il film in sala pubblicizzato o meno quello l'abbiamo appurato sviscerando le altre domande a un certo punto dopo che c'è stata la distribuzione avviene un altro passaggio che può essere ancora un qualcosa in più per far parlare del film in questione adesso un esempio random che sono le premiazioni e quindi quello che ti chiedo è quanto incide la risposta del pubblico poi sulle premiazioni e quanto queste poi premiazioni adesso non l'ho aggiunto tutta la domanda per non allungarla troppo possono essere poi utili al film stesso che viene candidato se parliamo di Oscar qualche volta può essere anche nel nostro panorama va bene visto che dopo avremo una news dove ne parliamo in Italia è chiaro che la pubblicità ha vinto il Leone d'Oro la Coppa Volpi a Venezia la Palma d'Oro a Cannes l'Oscar al miglior film miglior attrice miglior attore e compagnia bella sì cioè è capitato col caso Parasite che insomma poi il film che effettivamente ha trionfato agli Oscar tornasse e abbia avuto anche una risposta importante in sala quindi dipende dai casi dalle circostanze però in linea di massima è anche quello un modo di fare pubblicità per quanto riguarda le premiazioni internazionali che siano più o meno quelle dei festival Cannes e Venezia credo che il Toronto Film Festival già possa incidere di meno in Italia ti sto parlando sempre di Italia e gli Oscar cioè pure i Golden Globe mi sa che non è che abbiano chissà che attrazione come vendita di un film se ci devi fare un pacchetto ecco gli Oscar capita che comunque ecco quando sa una casa di distribuzione che un film effettivamente può andare poco dopo o poco prima per sfruttare le nomination il gran numero di nomination o per sfruttare la vincita cioè la vittoria di un premio di peso quindi a quel punto può essere sicuramente utile è un altro elemento ecco non è sicuramente proprio decisivo al 100% però è un altro elemento per quanto riguarda i David e lì volevo arrivare ma perché negli scorsi anni non mi è parso una vetrina così allettante per poi sai proseguire perché alla fine non parliamo di come è posizionata anche la vetrina dei David la serata dei David io sinceramente non me ne intendo così tanto da saper strategicamente dove piazzarla in maniera ottimale diciamo che non so i BAFTA però guarda caso non sono così lontani dagli Oscar le altre premiazioni girano più o meno tutte intorno all'evento che ormai tra le premiazioni quindi lasciando da parte i festival che sono tutta un'altra realtà sono tutte più o meno lì le premiazioni se tu guardi i Goya i premi Cesar noi invece arriviamo sempre dopo gli europei hanno film awards che addirittura sono prima degli Oscar no ma oltretutto adesso lo spazio si è un po' accorciato perché prima gli Oscar erano addirittura a febbraio dopo il covid adesso hanno è aumentato il distacco quindi siamo arrivati adesso ormai inizio di marzo comunque secondo me anche questa distanza questo non so essere un unicum rispetto a tante altre premiazioni non so sicuramente influisce sì torniamo sempre lì nel senso purtroppo è chiaro che se non c'è un interesse per il cinemano strano non vedo perché ci debba essere per i premi banalmente per di più chi diciamo lo organizza lo allestisce non ha questo particolare interesse io ricordo che l'anno scorso la serata io non so quanto prima lo decidano ok quindi per carità però il caso vuole che non si sia nemmeno riuscito un attimo a ridistribuire a rimescolare le carte perché l'anno scorso la serata era la stessa data della semifinale di Champions tra Milano e Inter ecco anche queste cose adesso non ho visto che giorno è? 3 maggio 2024 io non so se c'è qualche evento sportivo non ho idea però ecco si sa che il calcio in Italia poi in una semifinale di Champions in derby di Milano eh non capisci ma è ovvio che non te lo guarda nessuno la cerimonia dei David già non te la guarda probabilmente nessuno mettiamola così se poi la fai durante una semifinale di Champions tra Inter e Milan io non vedo perché farla francamente cioè io apprezzo molto che la Rai quest'anno invece abbia trasmesso gli Oscar questa è stata una bellissima iniziativa speriamo che non sia solo per la presenza di Garrone speriamo che non sia solo per voi speriamo 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 che sia per altro ecco un altro esempio molto simpatico è quello che hai citato perché insomma basterebbe un minimo di informazione sull'argomento certi titoloni forza Garrone forza Capitano e Oscar non li avreste nemmeno letti perché si sa proprio da mesi che è la zona di interesse sì sì si sapeva da tempo ormai ma poi bastava la doppia nomination miglior film miglior film internazionale quindi per dire nel senso quanto ci teniamo noi intendo insomma come paese all'argomento questo lo dimostra e quindi i David secondo me non rappresentano proprio nulla per il pubblico è quello il discorso è una serata organizzata dove i candidati sono per lo più con i nomi che ci davamo prima cioè come produzione organizzata dalla Rai congratulazioni che si fanno i congratulazioni tra di loro e molte volte tra l'altro mi è capitato di vedere serate in cui anche chi presenzia e va sul palco non c'ha voglia è talmente distaccato per questo volevo fare questa domanda qua perché nel senso quello che ho sempre visto seguendo comunque i David da diverso tempo mi è sempre sembrato qualcosa di talmente chiuso dove non c'è quel rapporto poi tra pubblico e premiati e candidati e quindi è quello che viene un po' a mancare diciamo non avendo lo star system di conseguenza ancora di più non c'è un attaccamento ai premi che come abbiamo detto è anche fuori tempo massimo cioè a maggio cioè ragazzi maggio passiamo alla quinta domanda che forse è quella che ci potrebbe occupare un po' più di tempo dipende da quanto può essere aperta per te questa è abbastanza soggettiva per chiudere questa breve intervista la domanda è questa magari tu ce l'hai già un nome secco e va bene così magari ti serve un attimo per elaborare quindi qual è il tuo film o serie preferita quel prodotto cinematografico o televisivo che devi guardare assolutamente ogni tuo tempo che ti appassiona così tanto che magari non è neanche un capolavoro però talmente è entrato nel cuore che non ce la fai è veramente nella tua classifica è proprio il tuo preferito eh guarda è difficile perché a me è come chiedere se voglio più bene a mamma e papà quindi immaginavo è una domanda impossibile però posso ridurre comunque il campo nel senso citerò qualcosa di talmente importante titolo allora di film ne cito tre brevemente ti dico quello che avrei voluto fare io perché rispecchia quello che è un mio modo di approcciarmi alla vita è La La Land cioè è un film che avrei avrei voluto fare io sia per diciamo un omaggio al classico al cinema classico che parlare tramite un musical che avere un linguaggio da sognatore tra virgolette e credo che incarni perfettamente anche la proprio la mia idea di cinema a 360 gradi quindi se insomma mi chiedi quale film ruberesti io ruberei La La Land di Shedell a Shedell quindi se lui poi mi può fare la cortesia di tornare indietro nel tempo per me insomma non c'è problema film che negli ultimi anni mi ha stregato ecco che veramente potrei riguardarlo senza mai stancarmi è Parasite cioè credo che Parasite è uno di quei film che sin dalla prima volta ho pianto per la bellezza cioè è uno di quei rari film che al di là proprio delle emozioni che suscita la storia ma proprio per anche lì l'idea di cinema di Bong Joon-ho come mette in scena il rapporto tra alto e basso come la sua idea di postmoderno tra commedia thriller dramma insomma esce una roba secondo me formidabile che Parasite è anche manifesto del postmoderno secondo me che è una cosa forse al momento sottovalutata vedremo negli anni ma secondo me è un pregio non da poco voglio dire quindi ti cito questi due come film contemporanei come film ecco datati vabbè io sono particolarmente legato al western e al noir come generi classici però voglio citare invece un film che non appartiene in linea di massimo a questi ma che mescola la commedia un po' con l'inizio noir e credo sia un film profetico anche per quello che è stato poi il trascorso della storia dell'umanità proprio che a qualcuno piace caldo su cui ho fatto anche la tesi quindi per forza di cose non posso non citarlo tra i miei film preferiti in assoluto è un titolo a cui sei molto legato insomma a qualcuno piace caldo è uno di quei film che rivedo ma anche più volte in un anno e continua a farmi ridere quella è una cosa pazzesca sono tre film incredibili comunque ti ringrazio no no io li amo con tutto il mio cuore serie tv ecco io non ho una grande conoscenza al momento cioè più sui libri che nel pratico mettiamo la posizione serie tv ho letto più di quello che ho guardato però c'ho due serie anzi ormai tre serie su tutte che prevalgono che sono Breaking Bad legata a Better Call Saul per me sono esperienziali cioè va al di là dei pregi perché è chiaro che sono serie tv perfette per quanto mi riguarda c'è una scrittura che ha cambiato poi il mondo della serialità sono quelle che hanno riscritto appunto le serie televisive e credo pure la terza che starei per dire sì per forza di cose anche Twin Peaks di Lynch per forza di cose Twin Peaks è un must al di là dell'amore per Lynch ma è proprio per per quello che ha rappresentato per la tv mescolando un po' pure là la soppopera nella seconda stagione poi Lynch ha fatto un capolavoro la terza capolavoro totale e quindi questi questi diciamo sono i titoli di cuore di vancia anche senza nemmeno che siano anche che siano anche titoli comunque molto diversi tra loro in realtà nel loro essere incredibili comunque vuol dire spaziare anche tra tutto quello che che si vede che possiamo guardare appunto sia sul grande schermo sia sul piccolo schermo quindi sicuramente molto interessante ma c'è invece solo per chiudere il un titolo invece quello che è più legato solo all'infanzia tra quelli magari che abbiamo anche nominato prima con la prima domanda invece ah infanzia no infanzia ce ne sì ce ne sono vari ma quello proprio che ho visto talmente di quelle volte lo so probabilmente lo so anche a memoria è il re leone quindi l'infanzia ti dico quello a mani basse bassissime il rinascimento Disney quindi sì quella parte quella parte lì sì il re leone comunque per non distorirci troppo anche dal livello degli altri titoli quindi che Grazie a tutti.